Noi abbiamo iniziato. Con il decreto Poletti, che non è stato così contestato e criticato, oggi i numeri segnano un'inversione. Da aprile a ottobre l'aumento dei posti di lavoro sono più 153 mila. Ve la dico con un termine tecnico-giuridico, è un'aspirina. Perché dopo che nei sei anni precedenti hai perso un milione di posti di lavoro, non è che nei sei mesi che guadagni 153 mila posti di lavoro vai con le bandiere a esultare. Però è un dato di fatto. Sempre meglio un'aspirina che un calcio negli stinchi.